Per accedere alle iscrizioni online per l'anno scolastico 2022-2023 è necessario utilizzare il sistema pubblico di identità digitale SPID o la carta di identità elettronica CIE oppure una delle identità digitali europee notificate EIDAS. La modalità per i servizi online diventa semplice, veloce e sicura. Informati su www.identitadigitale.gov.it L'identità digitale in Italia. Per accedere alle iscriviti al nostro canale.